Salve ragazzi, con questo video vediamo le classi verbali del greco antico e la formazione del futuro sigmatico. La prima classe verbale è una classe in cui il tema del presente coincide con il tema verbale. E questo vale per quasi tutti i temi in vocale, per esempio il verbo liu o il verbo diuo. Quindi il verbo liu ha come tema del presente liu e la stessa cosa è il tema verbale. Nella formazione del futuro basta aggiungere al tema verbale il suffisso sigmatico, che è un suffisso temporale, la vocale tematica, che sono sempre omicron ed epsilon alternate, e le desinenze del tempo principale, come quelle del presente indicativo che conoscete ormai bene. Quindi il futuro del verbo liu è liu uso, liu seis, liu sei, liu seton, liu seton, liu somen, liu sete, liu susin, al medio liu somai, liu sei, liu setai, liu seston, liu seston, liu someta, liu seste, liu son tai. E così via. Vi ricordo che nel futuro mancano il modo congiuntivo e il modo imperativo, per cui ci sono soltanto il modo indicativo, il modo ottativo, il modo infinito e il modo participio. E proseguiamo. Un altro verbo della prima classe è il verbo paideuo, un tema in ditongo. Tema del presente paideu, tema verbale paideu, il futuro è paideuso. Verbo epomai, tema del presente ep, tema verbale sep, sp. Il futuro si forma dal tema ep, con la caduta del sigma iniziale. Il suffisso sigma si unisce a questo tema consonantico, l'incontro di una labiale con il sigma dà come esito la psi. Quindi il verbo sarà eps, il futuro sarà epsomai. Tutte le labiali più sigma danno questo esito. Abbiamo già visto quando abbiamo lavorato sui temi in consonante della terza declinazione con il tema in labiale, per esempio, clops, clopos. Il verbo leipo ha come tema del presente leip, come tema verbale. Leip è il grado medio, insieme a un grado zero lip e un grado forte loip. Il futuro si forma dal grado medio leip e quindi sarà leipso. Stessa cosa vale per il verbo peito. Tema del presente peit, tema verbale, ha il grado medio peit. Poi c'è un grado zero pit e un grado forte poit. Il futuro si forma dal grado medio, in questo caso c'è una dentale che incontra il sigma, l'esito è quello di un sigma semplice, in realtà ci sarebbe il doppio sigma, lo sappiamo poi che è la semplificazione in sigma singolo. Verbo trepo, tema del presente trep, tema verbale apofonico, con trep al grado medio, trap al grado zero e troppo al grado forte. Il futuro si forma dal grado medio trep e il futuro di questo verbo quindi è trepso. Il verbo trefo ha come tema del presente tref, come tema verbale traf, tref, trof, con teta. Nel presente si è verificata la dissimilazione delle aspirate e quindi l'aspirata teta c'è tutto il posto alla tenue tau. Invece nel futuro l'incontro tra la fi e il sigma dà come esito psi, quindi non c'è più la condizione delle due aspirate consecutive per cui noi vediamo la teta. Per cui possiamo distinguere il futuro del verbo trepo da quello del verbo trefo in virtù di questa differenza nella dentale iniziale. Verbo feugo, come tema verbale ha fiug alternato con feug, il futuro è feuxomai. Adesso vediamo gli altri verbi in vocale. I verbi contatti che abbiamo studiato in alfa omega, in epsilon omega e in omicron omega. Il verbo timao ha come tema del presente tima. Nella formazione del futuro questi verbi che terminano in vocale davanti al suffisso allungano la vocale. Nel verbo liu poco fa lo abbiamo sottolineato perché la y, lungo e breve, non cambia assolutamente la sua forma. In questo caso invece il verbo timao, avendo un alfa impuro, nel futuro allunga quell'alfa in eta. Quindi da timaso ci sarà un timeso, il verbo fileo allunga anch'esso, epsilon diventa eta fileso, il verbo delo diventa deloso con omega prima del suffisso. Ci sono poi dei verbi che originariamente avevano il digamma nel tema. Il digamma intervocalico è caduto e quindi noi nel presente non lo vediamo. Per cui il tema del presente è te, il tema verbale è tev, che dà come esito teu nel grado medio, teu nel grado, diciamo, debole. Stessa cosa va dal verbo neo, che fa neo, niu, pleu, che fa pleu, pliu, reu, che fa reu, riu, cheu, 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 questi verbi hanno il futuro sigmatico, avranno anche un'altra forma di futuro, però diciamo adesso evitiamo di aggiungere altra carne al fuoco. Il futuro di questi verbi è un futuro medio, quindi teusomai, neusomai, pleusomai, reusomai e keusomai. Grazie.